quella ciao come va ecco tutto bene tutto buon come va gli altri qui il vostro sante jean che faccio questo primo video in questo canale augurale bene augurale spero perché innanzitutto vi auguro di avere un buon natale tutti in famiglia e poi un felice prospero anno nuovo 2021 perché non mi stancherò mai di augurarvi un felice prospero anno nuovo e ve l'ho augurato nel 2019 per il 2020 e infatti si è visto cosa è successo allora mi auguro che questa volta i miei auguri arrivino a essere degli auguri di un felice prospero anno nuovo ma sul serio non come è successo quest'anno che io vi ho augurato delle buone cose e invece guardate un po che cosa è successo speriamo che arrivi il bacino questo benedetto vaccino io sarò il primo a farmelo se potranno garantire che è sicuro comunque dicono che le cose dicono gli esperti che le cose non cambieranno più di tanto perché bisognerà far passare del tempo prima che tutti si vaccinino e poi perché ancora bisognerà lavarsi le mani quello anche prima mantenere le distanze di sicurezza evitare gli assembramenti perché questo covitti sta mutando sta cambiando quindi può darsi che ci facciamo un bacino a poi ce ne dovremmo fare un altro già tutti i vaccini prevedono due applicazioni magari ne dovremmo fare 48 speriamo di no magari nello stomaco comunque vi lascerò in questo video dei video consigliati se volete dei video di gastronomia cassareccia per il momento in questo nuovo canale non ne caricherò perché non ho tempo di farli purtroppo ma voi andate a vedere nel canale saint jean che vi lascerò durante la riproduzione nel video link al mio canale saint jean vecchio canale che c'è più di 2000 iscritti 700.000 visualizzazioni del canale lo superate e poi a fine video ci saranno le schede che anche lì vi consigliano di guardare dei temi per il momento non devo cucinare nulla ma ma la cosa più orribile devo lavare la cucina che non è molto piena ma insomma ecco io speriamo che me la cavo la cosa più brutta non è cucinare la cosa più brutta non è mangiare insomma ci siamo capiti la cosa più brutta e lavare i piatti le stoviglie le pentole su pelle pili varie lavare anche la cucina ecco quella è la cosa più brutta ma ricucinare mangiare meglio soprattutto se cucina un altro allora grazie di avermi seguito tutti questi anni per chi mi inizia a seguire soprattutto gli raccomando la visione dei video nel mio canale saint jean questo e altri due canali del brand li riserverò perché se non avrò molte visualizzazioni continuerò a caricare nel mio canale principale ma volevo fare un video per questo canale le ricette di gastronomia casa riccia perché poi gli dovrò anche cambiare il nome troppo largo come giustamente mi ha fatto osservare tanto giuseppe flaco montefiore come costantino ru sono dei canali che hanno il nome molto largo perché io non pensavo di farci dei video per questi canali a eccezione di spreche e radio podcast stante chan che prima si chiamava radio saint jean e lì sì che ciò caricato dei video andate a vedere quel canale arrivederci se non mi viene un video troppo largo allora felice e prospero natale buon anno nuovo arrivederci cari amiche ed amici dal vostro saint jean e mi raccomando cercatemi in sul web come saint jean vedrete tantissimi risultati anche su instagram sulle reti sociali poi dovrò attualizzare questi canali che ho come ho fatto con il mio canale principale se riceverò molte visualizzazioni a questo video inizierò a utilizzare anche questo canale ciao ciao adesso non faccio più non registro più perché altrimenti mi viene un video troppo pesante ciao